Ciao a tutti, come far sì che sia lui a cercarti? Questo video è per tutte le donne che hanno il problema di farsi cercare da un uomo perché questo non le cerca mai, non le cerca mai. Alle volte se sono loro a farsi vive si ha qualche risposta così sporadica ma di fatto lui non prende mai l'iniziativa. E perché capita questo? Perché lui non vuole mai prendere l'iniziativa? Perché probabilmente appartiene a una tipologia che ha un'insicurezza sull'essere cioè ha bisogno di desiderare, ha bisogno che gli si rendano le cose difficili le cose difficili che vadano a conclamare l'insicurezza che ha di se stesso. Lui si sente diverso da come vorrebbe essere, non è una persona che dice io sono quel che sono e non mi importa niente se ti vado bene così, no. Lui ha bisogno di qualcuno che lo renda insicuro nel suo ruolo, lo renda insicuro, si coinvolge su persone che lo rendano insicuro nel suo modo di essere perché ha bisogno di qualcuno che lo faccia sentire sbagliato, che lo faccia sentire diverso da come vorrebbe essere. E allora appunto tu devi iniziare a, anziché cercarlo, smettere di cercarlo oppure cercarlo molto meno e sgridarlo. Cercarlo dicendogli, quando lo cerchi, dicendogli eh, così, tanto non ho voglia di uscire con te perché sei al solito a testa di cazzo per dire non mi va di perdere tempo con uno come te che non sa chi è. e quindi vai a penalizzarlo, a colpirlo di proprio sulla sua debolezza. Ed è ovviamente il contrario di quello che hai fatto prima, finora. E quindi deve essere un passaggio graduale. Devi dargli anche una motivazione, devi dirgli ah, ho saputo delle cose su di te, vaghe, motivazione vaga, ho saputo delle cose su di te che non ti fanno onore sei proprio una testa di cazzo, non vali niente sei la persona sbagliata perché lui ha bisogno di sentirsi dire di essere la persona sbagliata e questo è quello che devi imparare a fare con tutte le persone che appunto non ti cercano che evitano di cercarti e che ti rispondono casomai ogni tanto quando sei tu a cercare loro. questo è perché in realtà tu pensi che siano delle persone sicure perché dici apparentemente questa è proprio una persona sicura perché non mi dà proprio, come dire sono io sempre che devo cercarla lui non si fa mai sentire, eccetera ma perché non si fa mai sentire? Non si fa mai sentire perché tu e quindi è colpa tua dai praticamente per scontato molte cose per scontato il fatto che lui sia una persona cioè se sei coinvolta credi che per coinvolgere bisogna dare sicurezza bisogna dare stima bisogna dare considerazione bisogna dare gratificazione invece no perché se dai stima, sicurezza, gratificazione, considerazione con questo tipo di soggetti ottiene esattamente il contrario devi minare la sicurezza cioè dare insicurezza e come fare a fare questo? beh, farlo sentire sempre la persona sbagliata farlo sentire sempre in secondo piano dirgli ad esempio ma vediamo domani se non ho diciamo un invito da parte sto aspettando un invito se per caso non arriva ci vediamo quindi però questo devi farlo diciamo devi farlo gradualmente gradualmente perché lui deve più o meno dimostrare interesse se ti cerca qualche volta nel momento in cui ti cerca devi subito mettere un vinco se non ti dice magari magari è una persona che ti cerca raramente no? ma una volta ogni tanto ti cerca anche soltanto per come dire per sesso ad esempio no? allora è lì che tu devi minare la sua sicurezza di no domani guarda sto aspettando un invito se non mi arriva che non ho niente da fare ci vediamo ma te lo dirò tra un po' e tac e chiudi subito il telefono devi subito chiudere il telefono perché quello di chiudere il telefono per prima è di fondamentale importanza perché con questo tipo di persone mai chiudere il telefono dopo di loro devi sempre chiuderlo prima perché nel momento in cui tu lo chiudi prima vai a minargli anche in questo caso la sua sicurezza perché dice come mai questa mi lascia in sospeso ecco chiudere il telefono per prima significa lasciarli in sospeso e se lo lasci in sospeso ovviamente ottiene un grosso vantaggio ottiene un grosso beneficio e il beneficio è proprio quello di non dargli la certezza che tu sarai comunque disponibile nel che tu sarai disponibile e poi appunto quando sparisci non gli dici neanche il giorno dopo sì ci vediamo no non ci vediamo no tu lasci appeso lì e poi sparisci non ti fai proprio sentire in questo modo lo metti in un doppio legame perché se lui si fa sentire dice ah no mi spiace un altro l'altro invito facciamo un po' un'altra volta non ti preoccupare ti chiamo io e gli dici così in modo tale da avere tu il controllo il potere su quando chiamarlo o su quando non chiamarlo se invece ti chiama lui praticamente se invece ti chiama lui tu neghi gli dici no guarda non posso ecco se invece se no se no se lui non ti chiama tu non chiami quindi resta al buco quindi se lui non ti chiama tu non chiami quindi resterà a credere che tu non l'hai cercato perché avevi quell'altro impegno e che si era fatto vivo con l'altra persona ed è riuscita con quell'altra persona quindi in questo modo vai a diciamo a metterti in una situazione di doppio regalo per cui comunque vadano le cose tiri sempre l'acqua al tuo mulino fai venire sempre l'acqua al tuo mulino e stacola devi farla venire bene però per farla venire bene devi mantenere il distacco del risultato questo è fondamentale cioè devi andare a cercare di capire anche un po' quali sono i tuoi turbamenti quali sono le cose che in qualche modo ti potrebbero ostacolare perché se non riesci a capire quali sono le cose che in qualche modo ti potrebbero ostacolare e poi diventa difficile non riuscire a a fare questo e tutto questo lo puoi capire da diverse forme di comunicazione anche da forme di comunicazione non verbale puoi capire questa questa tipologia ad esempio un modo molto semplice per capirlo se hai la possibilità di stringere la mano o no normalmente fai una leggera torsione della tua mano in modo da vedere se l'altra persona accetta che venga il suo polso venga portato rivolto verso l'alto se la persona accetta senza opporre resistenza diciamo così che il suo polso venga rivoltato diciamo così verso l'alto allora significa che appartiene proprio a questa tipologia in cui devi in cui lui vive una crisi dell'essere la crisi dell'essere si esprime con sono diverso da come vorrai essere non sono ciò che vorrai essere ecco e quindi devi mettere in atto tutta questa strategia perché è un e sono anche persone che hanno difficoltà diciamo così a decidere difficoltà a prendere decisioni difficoltà e quindi devi rendergli le decisioni ancora più difficili perché se la persona ha difficoltà diciamo così a decidere tu devi rendergli le decisioni ancora più difficili in pratica devi rendergli difficili le cose facili attraverso l'inutile attraverso dei ragionamenti anche un po' contorti insomma devi proprio fargli credere che come dire le cose sono molto più difficili di quanto lui possa pensare e questo lo attira tantissimo lo coinvolge tantissimo quindi a una persona del genere mai dare disponibilità sempre soltanto far intendere che potrebbe esserci disponibilità deve essere quella che la dà a tutti ma non la dà a lui cioè lui deve pensare eventualmente che tu la dai a tutti ma non a lui deve sentirsi più sfigato degli altri perché nel momento in cui si sente e tu gli fai rendere conto gli fai prendere atto che è più sfigato degli altri si innamora di te si innamora di te perché vai a ricreare diciamo questo tipo di sofferenza che lui ha già vissuto e questo lo coinvolge bene per questo video è tutto vieni martedì no venerdì 20 aprile ora 20.45 a Torino al mio seminario amati e seduci ripeto venerdì 20 aprile ora 20.45 in corso 33 dice a Torino riferimento a 333 1511 703 con il mio seminario imparerai a sviluppare l'autostima far volare l'autostima e a sedurre coinvolgere le persone che ti interessano per questo video è tutto mi raccomando iscriviti al canale e soprattutto fai iscriviti ai tuoi amici ti saluto ciao